Il scooter ha investito il lupo che passeggiava a lungo la strada provinciale 71 in località Il Matto, frazione del comune di Arezzo. Nell'incidente l'animale morto sul colpo, il conducente del motorino invece finito fuori strada in seguito all'urto è rimasto ferito. È successo questa mattina attorno alle 7. Lo scooterista, un 57enne, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Il mezzo è finito fuori strada ed ha terminato la sua corsa in un fosso laterale. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 dell'Asla Toscana Sud-Est con un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca. Nulla da fare invece per il lupo che è morto sul colpo. Alla polizia municipale sono stati affidati rilievi al personale del servizio veterinario invece gli accertamenti sull'animale.